Musica Pallone in profondità, in area di rigore per il movimento di Surraco che mette in mezzo per Moscardelli che controlla il sinistro! Lecce 1, Catanzaro 0, Davide Moscardelli E questo è un grande gol, l'ha fintato di andare sul secondo palo, è uscito dalla marcatura, è andato verso il pallone, l'ha stoppata di petto, eccolo qui il cross è perfetto, la finta qui è già stata fatta, anticipa l'avversario e caccia di sinistro, una bella girata Veramente un gran gol da giocatore, da gole ad oro, veramente un po' sorpreso Occhi che si è fatto sfuggire proprio a pochi metri dalla porta, ha perso la marcatura e Moscardelli non l'ha perdonato Settimo gol quest'anno per Davide Moscardelli Attacchiante di lunga militanza anche nei campionati superiori, 92 presenze in Serie A, 259 in Serie B E lui è il trascinatore di questo Lecce Grazie a tutti